Ecco la gita perfetta per iniziare con il mondo dell'alpinismo. Sto parlando di Rocca Iarea, cima situata in Valle Varaita. Si parte da Castello di Ponte Chianale e si risale il vallone dei Duc fino al passo del Ranco. Da qui la cresta presenta passaggi di arrampicata molto semplici e divertenti, adatti a camminatori esperti che vogliono cimentarsi con le prime scalate. In punta troviamo una bella croce di fetta e si può compiere un giro d'anello scendendo dal versante opposto nel vallone delle giargiatte. Se ti è piaciuto questo reel, salvalo e metti like.